Wella ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati ragazzi su Bunker Builder Simulator, la demo, perché ancora il gioco completo non è uscito. Come sempre ragazzi inizio questo gameplay ricordandovi che in descrizione se può interessarvi ci trovate un link che vi permette di comprare tanti giochi scontati. Vi ricordo anche ragazzi che in descrizione trovate i miei social, TikTok, Telegram, Twitch e quant'altro. Ultima cosa, se non vi volete perdere i nuovi video, attivate la campanellina e dovete anche iscrivervi ovviamente per prima di fare questo. Così YouTube vi manda una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora quindi questo gioco è una demo, ho fatto un gameplay, ho fatto la prima missione, in teoria credo che in questa demo ci sono in tutto tre missioni. Abbiamo fatto l'introduzione, abbiamo fatto l'ordine piccolo, c'è l'ordine medio. Allora, la commissione di Emily, ho bisogno di un bunker nascosto in un campo che abbia un ingresso piccolo. Il bunker dovrebbe avere un sistema di filtrazione dell'acqua e un'area di magazzinaggio per cibo e forniture. Ok. Che caspita di bunker è col cesso in bella vista? Cioè, il bunker è almeno una parete per nascondere, no? Posiziona gli elementi del sistema di ventilazione in modo da collegare il condizionatore d'aria alla griglia di ventilazione utilizzando i tubi, ruota, utilizzo un cacciavite. C'è tanta roba qui. C'è parecchia roba, speriamo che il gioco più o meno mi dice qualcosa perché... Ok, stavolta il gioco non mi dice dove devo scavare. Come dire, fa quello che vuoi. Ah, perfetto. Mi hanno dato quindi campo libero, diciamo. Vabbè, allora lui dice fai un'area di ingresso. E allora io ci faccio l'ingresso, no? Allora, e allora ci devo fare l'ingresso. Qua facciamo area di scarico. Quindi facciamo un'area di ingresso. Però spero che poi nel gioco completo ci mettono qualcosa di meglio della pala perché... Cioè, ci stava bene un escavatore, ovviamente, no? Comunque, abbiamo fatto più o meno una zona di ingresso. O forse magari me la allungo ancora un po'. E mo' me ne vado un po' più a sinistra e un po' più a destra. Ok. Un po' a sinistra e un po' a destra. Ok, beh, io intanto... Beh, un buco qua l'ho fatto, non lo so se ci basta. Dunque, come si metteva poi per terra la cosa? Che non me sto ricordando come si costruisce. Era con la Q. Come si faceva? Con la F. Ok. Modalità, modalità, aspetta. Indietro. Distruzione. Modalità modifica. Modalità... Devo piazzare per terra il pavimento, ovviamente. Elementi costruzione, soffitto, pavimento, in. Ok, allora, sì, beh, diciamo che... Pensavo di fare un ingresso, ma è impossibile, perché l'aria... L'aria è questa, non si può fare più piccola. Allora, facciamo così. Intanto costruiamo questo pavimento. Poi se ne vuole un altro, allora... Beh, mi conviene scavare qui, che avevo già iniziato a scavare. Quindi, assi di legno. Le ho comprate. Ok. Poi andavano messe qua. Poi andava preso questo. Ok, andando lì ho fatto una montagnetta. Ah, ci vogliono quattro assi di legno. Beh, non è... Vabbè, non è un problema. Peccato che, come vi stavo a dire anche nel primo gameplay, non si può trasportare più di un'assa alla volta. Cioè, non ha neanche senso, di fatti. Per me sarebbe stato corretto, se c'era la possibilità di trasportare almeno due assi. Anche perché quando l'asse è sana, la trasporti tutta lunga, no? Mo' che l'ho tagliata in due, non è capace a trasportarla? Meno male che sono solo quattro assi. Allora. Mo' ci vuole, mi pare, il giravite o me sbaglio? No, è il martello. Me sbaglio o manca da martellare qua, insomma? Ma ancora ancora? Che manca mo'? Ah, no, mo' ci vuole secchio di calcio struzzo, vero? Ok. Ma uno bastava? No, due. Prepariamo tra poco il secchio. Mi pare che è pronto. Sì. Abbiamo il calcio struzzo, due secchi. Uno. Ora, vediamo se continuo a dire pavimento uno di due. E in caso dobbiamo metterne un altro. Uno di due. Allora qua mi tocca scavare. Perché avevo già iniziato a scavare da qua, tanto vale che continuo da qua. Ok. Facciamo quindi il secondo pavimento. Insomma, verrà un bunker un po' più grande in confronto al primo, perché il primo era decisamente piccolo, più piccolo. Era la metà di questo. Però, comunque, secondo me il gioco ha ancora... Come dire, mancano un po' di cose. Secondo me manca la possibilità di creare, diciamo, delle... Dei pavimenti più piccoli, no? Tipo, volevo fare un ingresso piccolo, un ingresso che poi andava ad allargarsi. E questa cosa non si può fare. Poi va bene la pala, però secondo me ci vuole qualcosa anche di meglio, più avanti della pala. Che la pala, ovviamente, è lenta. Poi la terra. Ci vorrebbe un posto dove buttarla, perché veramente tutta questa terra qua è esagerata, no? Cioè, sto a fare montagnone. Ci voleva, che ne so, ci voleva un container che dici, metti la terra qua dentro. E magari, che ne so, la paga pure, che ne so. La paga, che ne so. Boh, perché sto a fare il mega accumulo di terra qua. Ok, allora, tornando a noi. Dove? Pavimento. Eccolo là. Solite due assi. Non c'è un modo più sbrigativo, mannaggia, con ste assi? Veramente, che cosa brutta che... Non c'è un modo più sbrigativo per le assi? Poi dice, costruisci muro sei. Aspetta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ah, ho capito. Quindi, alla fine, il progetto non è proprio libero, come voglio io. Perché, alla fine, devo fare quello che dice lui. Ovviamente. Allora, martello. Che se martella. Qua. Andiamo a prendere il secchio. Ok. Bene, ora dobbiamo pensare ai muri. Quindi, pareti. Parete in calcestruzzo. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque. Aspetta, se lo piazzo, ma la piglio in quel posto, mi pare, vero? De fatti. Ok, allora, che ci vuole, ma qua? Trave. Ah, quelle di metallo. Cominciamo da quattro, vediamo. Eh sì, caspiterina. Ce ne vogliono un bel po'. Ci vogliono quattro per sei. Sono venti, no? Aspetta, che cacchio sto a dire? Quattro per sei. Ok, madonna la matematica. Sei e sei. Fa dodici. Ventiquattro. Quindi, una ventina. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Per ora famone otto, perché non so neanche se ci entrano tutte qua. Ok. Poi le dobbiamo saldare, una volta messe tutte. Ok. Ok, allora, bene, ma devo saldare tutto. Tasto sei. Cominciamo dal primo. Oh, che bella è sta saldatura. Ok. Tutto qua. Ok. Che poi non è che è dritto, ti devi mettere tipo qua. Devi più o meno stare alla destra di dove vuoi saldare. Perché se ti metti proprio al centro, non prende. Devi stare sulla destra. Così. Eh. Oh. Ah, e devi anche essere lento. Ovviamente. Vediamo. Che mi manca? Questo, credo. Oh. Ti pare che ho saldato tutto. Eh, la miseria, ci vogliono mo' un botto di tavole tagliate. Allora, ogni due è per uno. Quindi, due, tre, quattro, cinque, sei. Madonna. Eh, devo tagliare tutta sta legna, credo. O male che va mi avanzerà. Male che va non mi avanza. Beh, cominciamo a vedere quanto... Forse non ce ne vogliono quattro. Forse sì. Sì che ce ne vogliono quattro, invece. Ce ne vogliono proprio quattro per ognuno. Sono sei. Ci vorrà un po' per metterle tutte. Ok. Quattro per ognuno. Poi ci vuole, credo, il calcio struzzo. Poi dobbiamo fare il tetto e poi gli interni. No, aspetta. Mi sa che ne ho comprati di più, perché già qui me l'ha fatto. Valla a capire. Con pazienza. Ma meglio per me, se è più sbrigativo. Allora, ci dovremmo essere, tutto sommato. Forse me ne mancano ancora due qua, di tavole. Ma ce ne è una. Me ne manca un'altra. Boh, forse è caduta di sotto. Un'altra tavola, va bene. Allora, me ne avanza una e mezza. Ora manca che ci mettiamo il calcio struzzo. A un secchio alla volta. Allora, il calcio struzzo qua per ora ce n'era. È finito. Credo sia finito. Forse c'è un altro secchio. No, non ce n'è più. Allora, uno, due. Uno, due. Accensione. Quindi dobbiamo... Aspetta, ma questi li devo tagliare comunque, perché ora che ci penso... Ancora non mica abbiamo finito. Ci manca il soffitto. Ora che ci penso, ancora manca il... Oh, piglia questo. Manca il soffitto. Me li preparo. Qua abbiamo finito. Dammi il secchio. Ok, abbiamo il pavimento. Abbiamo i muri. Ora ci vuole... Soffitto e scala con soffitto. Eh, soffitto. Ok. Vediamo questo dove... Dove arriviamo con questo. Ma questo generatore qui a che serve? È tanto... Generatore. Ma si accende sto cosa? Oddio. Oh! Ah, questo mi sa che lo dobbiamo usare dopo. Quando poi facciamo l'impianto elettrico, no? Presumo. Che caspita ne so. Perché lui ha detto che voleva l'impianto di ventilazione, ma io non ho capito questo impianto di ventilazione come si fa. Allora, questo ce l'abbiamo. Forse devo fare un altro po' di calcestruzzo. L'ho finito? L'ho finito. Sicuro che lo dobbiamo fare. Quindi vai. Vai. Andando prepariamo l'altro. Poi. Serve. Scala. Per entrare. E soffitto. Ok, poi. Le travi. Qua abbiamo fatto. Stop. Oh. Peccato che non si può sistemare qua dove... Cioè, era buono riempire di terra, no? Quindi la struttura ce l'abbiamo. Poi ci vuole la saldatrice. Altro. E mo' le tavole. Che ho preparato. Mo' ci vuole calcestruzzo. E abbiamo finito con la struttura. Dobbiamo creare l'interno. L'abbiamo fatto già. Ci vuole quattro secchi. Quattro secchi di questo. E mo' ci abbiamo... La struttura è pronta. Allora. Posiziona letto. VC. Allora. Entriamo. Dunque. Posiziona. Allora. Indietro. Qua ci vuole. Letto. Cominciamo dal letto. Lampada. Letto. Letto. Come si gira. Allora. Che faccio? Il letto lo metto qua. Letto. Ah. Il letto è giusto che vuole essere avvitato. È un po' come House Flipper alla fine, no? E il letto in teoria è pronto. Poi ci vuole il VC. Quindi, aspetta. Torna indietro. Bagno. 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 Acqua. Può essere acqua, sì. Eeeh. Eeeh. Pfff. Lo metto all'ingresso il cesto, no? Non lo so. Io è brutto. Dove lo metto? Lo metto qua. Ma che ne so, raga? Veramente. Non lo so manco dove devo metterlo. Perché sarebbe stato bello avere delle pareti di separazione. Però il gioco non le comprende. Poi, scaffale 2. Farne indietro. Deposito. Comodino. Scaffale 2. Scaffali, vabbè, questi magari li mettiamo qua sotto. Certo, lontano dal bagno, quantomeno. Che cosa ci vuole? Richiesto cacciavite. Però è molto, ancora è molto basilare il gioco. Perché, voglio dire, tipo, non c'è da pitturare. Non c'è da mettere il lampadario. O magari c'è da mettere il lampadario. Sì che c'è. Posiziona lampada. Appunto, ci stiamo arrivando mo'. Impianto elettrico. Non ora. Lampada. Quale lampada? È indifferente. Ah, sì, si deve fare, si deve fare. Ma io lì sopra come ci arrivo comunque? Cacciavite. Ah, così. Però, comunque, tipo, non c'è da pitturare. Non ti fa mettere le porte. Non ci sono le porte da mettere all'interno per fare delle stanze. Ancora il gioco è molto basilare. Cioè, è carino però, secondo me, manca parecchia roba. Vabbè che ancora una demo magari metteranno parecchie cose in più. Fino a qua ci siamo. Mo' vabbè la corrente già c'è, quindi, boh. Posiziona cibo. Oddio, è dove devo prendere il cibo io? Mo' aspetta. Posiziona del cibo. Ci deve essere forniture. Ah. Ok. Ah, molto facile. Così. Vabbè, è una cagata. Così, eh. Ah, posso mettere allora pure lì. Vabbè, raga, possiamo mettere anche... Cioè, volendo posso mettere anche la stessa identica roba, tanto. Non gliene frega niente qua. Vabbè, 20 e 20. No. Me ne manca uno. A posto. 22 e meglio di... 21 e meglio di 20. Ok. Però non è finita in teoria. Perché lui voleva poi l'impianto elettrico. Ma sarà una cavolata? Come funziona quest'impianto elettrico? A dove se mette? Non lo sto a capire. Va messo fuori. Ah, l'impianto elettrico, a quanto pare... Ma, scusami. Ma lì va messo in un punto tanto strano. Ma che te devo dire? Se dici che lo devo mettere qua, lo metto qua. Che ne so io. Ah, sì, perché la presa è qua. E' strano così. Quindi, in pratica, questa la dovrei portare qua sotto. O no? E come, caspita, si fa? Forse devo scavare un po' qua, perché non me muovo. Ok. Vediamo mo'. Ecco fatto. Che poi comunque non serve a niente perché la corrente dentro c'è. Poi è strano, veramente, così. Aveva senso... Aveva molto più senso fare delle canaline, qualche cosa, insomma, no? Così è proprio banale. Ovviamente. Allora, sistema di ventilazione, conduttura, condotto dell'aria, condizionatore dell'aria, griglia. Io non sto a capire niente. Beh, puoi di quello che vuoi, non sto a capire niente. Metto qua. Metto qua. Conduttura dell'aria. Manco gira, quindi figurati. Oh, come se gira sta conduttura? Non gira. Sistema di ventilazione. Almeno. Ma questo va dentro, no? Per forza. Spero. Poi. Conduttura. Allora, la conduttura forse la devo mettere. Ruotare. Ah, ecco, vedi. Ho capito mo'. Vabbè. Non manca. Io ci metto. Allora, questo qui... Scusami. Dove cacchio va messo? Ma questo va sempre dentro? Si ruota? Boh... Ok. Non lo so come funziona sta roba. Pensavo che c'era un pezzo che andava verso l'esterno. Ma mi pare che non c'è, quindi... Ok. E io sto coso l'ho messo pure. Avanti. Boh. Che altro c'era poi? Qua. Questi li abbiamo messi tutti. Vabbè, poi che c'è? Impianto elettrico l'abbiamo messo. Acqua fatto, lampade fatto, elementi di costruzione già fa, tavolo. Beh, effettivamente, caspita. Non ci metti in tavolo dove mangiare. Cioè, il gioco non me lo sta a chiedere, eh. Però, voglio dire... Lo famo completo. Ma poi non ce n'è tipo punti abilità da sbloccare. Non mi pare di aver visto nulla di simile. Vabbè, ragazzi. Oh, questo è il bunker. Che ve devo dire? È venuto così, dai. Va bene, dai. Ma come si conclude? Come si finiva? Info, termina. Allora. Ah, è proprio finita la demo. Ok. Va bene. Boh. Ok. Questo era, insomma, il tutto, ragazzi. Abbiamo provato il gioco e la demo l'abbiamo finita. È carino, però manca troppa roba, secondo me. Manca molta roba per essere veramente decente. C'ha delle cose molto belle, eh. Però manca parecchio. Manca molto. A punti abilità mancano la possibilità di riempire il bunker, coprirlo, no? Metterci l'erba. Cioè, manca mezzo mondo, la terra buttata a casaccio. Veramente. E si vede che è una demo. C'è manca troppa roba qui, eh. Va bene, ragazzi. Io concludo. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Ci si becca presto, ragazzi. Ciao, alla prossima. 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 Ciao, alla prossima.